Perché stiamo arricchendo qualcuno che non sappiamo, capito? Che sta alle nostre spalle, alle spalle delle nostre fatiche. Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Matti Marz, siamo qui su FIFA, però questa volta facciamo un video diverso, siamo nella sezione ultimi team e vi voglio far vedere una cosa. Allora, siccome sono arrivato a 413.000 crediti o monete, avevo detto tempo fa che io volevo fare una squadra e avevo fatto una lista di vari giocatori che avrei voluto comprare dal valore complessivo solamente la squadra in campo, gli 11 in campo, da un milione, un milione e due di crediti, più poi va aggiunto la riserva, va aggiunto tutti gli altri, parlo solo degli 11 in campo, volevo prendere gente come, ho la lista perché non mi ricordo tutti, Dybala, Higuain, Benzema, Cross, Marcello, Ramos, Schellini, Buffon, etc. e solo questi si va sul milioncino. Praticamente ragazzi, questi crediti che voi vedete qua, li ho fatti senza spendere un euro in più, nel senso, io ho cominciato FIFA, questo è il mio primo FIFA che gioco perché io a precedenti non l'ho giocavo, cominciando a vendere, io all'inizio vendevo praticamente le carte bronzo, i giocatori bronzo, prendevo 200 monete a carta, io sono partito da qui, e per l'opera adesso, come vedete, non ho niente, perché ho venduto praticamente tutto, questi sono quelli che trovo nelle buste, che vengo perché, intanto cosa ci faccio, e poi praticamente mi sono rimaste, che questi sono mesi, che mi sono rimasti praticamente qui, non riesco a vendere, ormai li ho inseriti, li lascio, intanto non mi danno noia, come vedete, e adesso non sto vendendo niente, perché ho venduto tutto, 413.000 li ho fatti, considerando la vendita di tutto, li ho fatti iniziando a vendere queste cavolate qua, ho bronzo, argento, poi piano piano sbustando, perché all'inizio, se vi ricordate, ho fatto anche degli impi di sbustamento, ho cominciato a comprare le buste, e un paio di volte ho trovato delle cose buone, ma tutte le altre non ho trovato niente, e molte volte anche venendo i giocatori non si riesce a recuperare i soldi, quindi io non ve lo consiglio, allora cosa ho cominciato a fare, a seguire le aste, e di questo oggi parleremo delle aste, ho incominciato a seguire le aste, e praticamente, ho fatto i soldi con le aste, e ho selezionato alcuni giocatori, ho una lista di giocatori che bene o male vanno, più o meno a quelli che riesco a prendere, perché non ho detto, ad esempio io Buffon, così, andiamo anche a vedere, Buffon è un giocatore, Buffon è un giocatore che, diciamo, si vende molto bene, allora adesso, sto vedendo adesso, i prezzi, praticamente io mi ero segnato i prezzi, ma i prezzi ragazzi variano molto, variano dalla quantità disponibile in vendita del giocatore, ad esempio adesso ne abbiamo veramente pochi di Buffon, e adesso ha lito di prezzo, perché adesso 79,80, 79,79 è il prezzo minore, voi considerate che qualche giorno prima Buffon a 65.000 veniva via, quindi, 65, io riuscivo a comprare Buffon a 65 e andarlo via per 70, ragazzi, quei giocatori, non pensate di guadagnarci 50.000 al colpo, se vi va bene, se vi va bene, si guadagna sui 4.000, 5.000 giocatori, non di più, anche perché poi c'è un 5% da considerare, che viene tolto tipo le tasse in Italia, che non sono 5% sono di più, molto di più, però non capisco come mai, voglio dire perché non mi lascio il mercato libero, a chi va questo 5% virtuale, io lo vorrei sapere, perché stiamo arricchendo qualcuno che non sappiamo, capito, che sta alle nostre spalle, alle spalle delle nostre fatiche, e questo che mi nervo, no, mi inalbero, capito, e quindi no, veramente, perché c'è questo 5%? Boh, non si sa, e comunque, se voi spendete, per esempio, spendete 80.000, faccio un esempio, voi, se voglio comprare questo, c'era uno da 80.000, deve andare a finire, non c'è più, va bene, 79.000, 80.000, 80.000, il 5% di 80.000, sono 4.000, quindi capite bene, che se volete comprare un oggetto, a 80.000, non lo potete rivendere, a 85, perché ci perdete soldi, e non è affatto facile, a parte bisogna stare attenti, a varie cose, uno, che 4-5 giorni fa, andava via, si vendeva a 70, perché si trovava, al compra subito, a 69, quindi, bisogna stare molto dietro ai prezzi, capita, perché mi è successo, che io ho comprato, per esempio, un Buffon a 72.000, e poi il prezzo è sceso, quindi, se io ho preso Buffon a 72, era per venderlo a 78, roba così, 80, il problema è che poi dopo, cosa è successo? Subito, il giorno dopo è sceso, è andato, è andato praticamente a 60, 65, e io non l'ho potuto più vendere, è stato un sacco di tempo lì, e poi l'ho venduto, e non ci ho manco guadagnato, perché è dovuto calare il prezzo, quindi, ci ho ripreso solamente, praticamente le spese, e non ho guadagnato niente, e questo capita molto spesso, bisogna fare attenzione, la cosa saggia e buona, sarebbe comprare, quando per esempio, Buffon scende a 65, comprarne il più possibile, lasciarle lì un paio di settimane, e poi venderlo quando il prezzo, come per esempio adesso, sta a 80, però, dovete considerare che, almeno, un paio di settimane, il prezzo ci vuole, una settimana o due, il prezzo ci vuole per il valore, e voi state una settimana o due, fermi, anche queste sono scelte, dopo guadagnerete meglio, ma però, dovete stare, è tanto, perché è assolutamente un giocatore, in un paio di giorni lo vendo, quindi, una settimana per me sono tante, perché io, cioè, per esempio, se io compro 5 Buffon, devo aspettare due settimane, non compro altro, devo comprare, rivendere, e guadagnare, e quindi, per esempio, un altro, non dico Buffon per dirne uno, un altro, che io vendo molto bene, Marcello, ma che di Marcello, ne ho comprati tanti, e Marcello è anche, sia Buffon, che, e, Marcello sono giocatori, io tendo, tendo a comprare i giocatori, che poi mi serviranno, perché, un po' perché, se magari non lo vendo, me lo tengo, e un po' perché, a parte che non so, se poi, dal mercato, si possono riprendere, i giocatori, e non lo so, e poi, chiaramente, anche prima di venderli, li provo, così li testo pure, quindi, insomma, mi conviene, anche Marcello, ne ho comprati tanti, anche Marcello, mi sembra che, e adesso sta, se vedete, a 71, col compro subito, se guardo il prezzo minore, vedete, per esempio, c'è uno da 70, sta un altro a 71, un altro 69, 70, quindi, se voi volete vendere, io parlo di giocatori, che volete vendere subito, va messo a 70, o a meglio a 69, sarebbe ancora meglio, perché 69, se il prezzo è minore a 70, lo mettete a 69, lo vendete subito, e quindi, per metterlo, facciamo a 70, voi dovete comprarlo, dovete considerare, il vostro guadagno, che può essere di 4, 5 mila, più il 5% di 70, che sono, 3.500 crediti, per vendere la 70, dovete trovare, intorno ai, 62, 62, 63, questa cifra qua, e come potete vedere, c'è questo, che è un'asta, io sto, infatti, infatti ragazzi, dobbiamo seguire le aste, ma, io vi faccio vedere, che qui siamo già a 60, manca 20 minuti, e l'asta in sé, diciamo, la vera natura dell'asta, la vediamo, negli ultimi, 25 secondi, fondamentalmente, perché negli ultimi, 25 secondi, tutte le volte, che praticamente, l'offerta, l'asta ritorna a 25 secondi, avete sempre 25 secondi, di tempo ripetibili, ogni volta, che uno inserisce un'offerta, quindi, a oltranza, e sicuramente, farà sui 70, farà sui, sì, 69 il limite, farà sui, 65, 66, 67, perché, assolutamente, un'asta, combattuta, se il limite è 70, o 69, in questo caso, assolutamente, si risparmia, un mille, duemila monete, che, per chi lo compra, può andare bene, ma, per chi lo deve rivendere, affatto no, quindi, vedete, che non è, affatto facile, quindi, anche di Marcello, attualmente, un altro giocatore, che io, voglio, nella mia squadra, che ho già comprato, e rivenduto, più volte, è Cross, chiaramente, questi ragazzi, sono giocatori, che, costicchiano, non sono giocatori, da 10 mila, 15 mila, però, capite bene, che se è comprato, un giocatore, da 10 mila, come fate a guadagnarci, 5 mila, non è proprio facile, facile, che è la metà del prezzo, è come se io, un giocatore, da 80 mila, volessi guadagnare, 40 mila, beh, un po' tantino, chiaramente, comprare, giocatori, di questo calibro, ha anche, delle controindicazioni, perché, per esempio, se noi compriamo, giocatori, da 20 mila, sicuramente, avremo più compratori, che possono spendere, 20 mila monete, che, persone, che ne possono spendere, 80, 90, perché, chiaramente, chi, per un giocatore, si può permettere, di spendere, 80, 90, vuol dire, che, comunque, o è un giocatore, che ha speso, dei bei soldoni, o è un giocatore, che veramente, c'è stato dietro, e un po' di cose, ne conosce, quindi, sarà anche più difficile, guadagnare, su questi giocatori, rispetto a un giocatore, che magari, 20 mila, insomma, magari a 100 mila crediti, 20 mila, se lo compra, e magari, se lo spaga, un pochino di più, un pochino di meno, tanto, va bene lo stesso, rispetto a dei giocatori, che magari, hanno, anche di più di me, perché, io compro per ripendere, magari uno che, si compra cross, per farsi nascolare, magari idea, sono anche milioni di crediti, cose dove voglio arrivare io, quindi, sarà ancora più difficile, magari, spillare, qualche, credito in più, però, è l'unica maniera, per insomma, guadagnare, abbastanza bene, cross, come vedete, adesso, 80, 82, anche qua, ce n'è pochi ragazzi, oggi è la giornata, che ce n'è pochi, di tutti, quindi, il valore è aumentato, cross, io sono riuscito, mi sembra, a comprarlo, sui, ehm, 75, no, sui 72, forse, mi sembra, per rivenderlo, a 80, 81, quindi, levate, levate le spese, e il guadagno è suo, chiaramente, a 70, 72, è preso benissimo, e quindi, niente, chiaramente, ragazzi, se lo volete comprare, bisogna seguire le aste, c'è poco da fare, perché, ecco, il compro subito, io qualcosa ho comprato, col compro subito, ma, è abbastanza difficile, 8, poi abbiamo, anche, vediamo un po', uno che costa un pochino meno, che vi consiglio, perché è un bello overall, a tira, infatti ragazzi, uno che ho comprato, quando avevo pochi soldi, Miranda, Miranda, costa intorno ai 25 mila, ed è un 86 di overall, quindi, tantissimo, con pochissimo, a Miranda è un giocatore ottimo, perché con 25 mila, si ha un overall di 86, è ottimo, specialmente per chi inizia, infatti, questo è stato uno dei miei primi giocatori, adesso, vedo che è aumentato, perché prima andava via a 24, cioè, 24 era il limite massimo, adesso è aumentato, 27, adesso, si venderebbe molto bene, anche, credo, se si mette un pochino di più, ragazzi, non tantissimo, però, credo che un 27, si venderebbe bene, quindi, 27, va preso almeno, con, facciamo for 30, vi leverebbe 1,5, quindi, 27, va preso al 22, 22 per guadagnarci qualcosina, tipo questo, 22, 250, potrebbe anche andare bene, il problema è che, manca ancora 37 minuti, siamo già sul limite del guadagno, quindi, anche se io offro, poi, sicuramente, questo va andrà a 25, e quindi, io il guadagno non ce lo faccio più, poi, vediamo un po', un altro, che potrebbe essere bellino, i cardi, che non fa parte della mia squadra, andiamo sulle carte speciali, sono tutte 50 mila, 50, 40, 44 e 2, quindi, il prezzo di i cardi, siamo sui 50 mila, più o meno, quindi, 47, 48, 45, 48, per venderlo bene, dovete metterlo sui 48, perché se lo mettete sui 50, chiaramente, prima si venderanno tutti quelli da, più bassi, e poi toccherà a voi, fra quanto tempo, non si sa, quindi, 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 io siccome ho premura, 44, 45, è un buon prezzo, in realtà, perché, ecco, per esempio, se uno lo dovesse comprare, per usarlo, senza di venderlo, 44, 45 è buono, per me non è buono, perché io, poi dopo, lo devo rivendere a 48, sui 50, al 5%, sono 2,5, 2,500 monete, quindi, 45, 46, 47, 5, e mi leva, se non ci fosse questo 5%, anche il guadagno di 2,500 monete, oh, e io lo prendo, sono soldi anche quelli, non mi fa schifo, che abbiamo un 17,000, te 17,000, mettiamoli, vediamo un po', Benzema, anche Benzema, che praticamente, anche questo, tra i miei giocatori, che voglio prendere, perché andrà, non so se metterlo in C-O-C, o in attacco, come sostituzione, da, di Balla, o Eguin, vedremo, allora, chiaramente, non vado a prendere, la carta di Halloween, perché 150,000, non ce le voglio tirare, quindi, andremo a vedere, quelli, la carta normale, allora, sui 40, 30, 75, 40, 46, sui 40, comunque lo vendete, quindi, 40, mi leva, 2000, anche 35, potrebbe essere buono, perché comunque, 2000 ve li leva, andate a guadagnare, 3000, che non sarebbe male, 31, ah, questo è ancora meglio, 30, 37, 5, questo non è male, però, però anche questo, 30, mi sa che 40, è troppo, ragazzi, perché, comincia ad esserne, un po' troppo, da 35, noi facciamo una bella cosa, noi offriamo a tutti, poi avremo, gli sviluppi, il brutto delle assi, che poi, comunque, devi essere pronto, nel momento, che scade l'asta, quindi, anche questo, offriamo, no, ho già offerto, ok, non me lo segnava, il brutto delle assi, è che bisogna stare, di dietro, e, comunque, ci vuole un bel po' di tempo, perché, se dobbiamo stare, dietro a tutte le assi, anche perché, magari, c'è una che scade ora, poi c'è quell'altra, che scade tra 5 minuti, quindi, ti aspetti 5 minuti, poi c'è un'altra, che scade tra 10, allora, la racca aspetta, anche quei 10 minuti, e, alla fine, ci stai, praticamente, delle ore, e, magari, non concludi niente, ragazzi, perché non è facile, portarsi via un'asta, al prezzo che si vuole, per esempio, un giocatore, che io non userò, però, mi sembra che si compra, abbastanza bene, perché costa poco, anche questo è uno dei primi, che ho comprato, di ovvero l'altro, Verratti, allora, io non ve lo consiglio in campo, perché Verratti, l'ho ottenuto parecchio, perché è un 87, ma non funziona come un 87, un 87 è un po' fasullo, quindi, per giocarlo, non ve lo consiglio, ve lo consiglio, per comprarle e rivenderlo, siamo sui 38, e guardo sempre l'offerta minore, perché, voglio sempre venderlo rapidamente, poi, ragazzi, potrete anche, vedete che, diciamo, sta sui 45, poi, se ce n'è uno solo, non fa testo, però, se ce n'è più di uno, 40, 45, c'è un'altra 38, un 36, quindi, diciamo che il prezzo è sui 38, e che ce n'è più di uno, c'è anche un 36, ma 36, vabbè, non lo consiglio, perché uno solo, c'è un 38, quindi, se un 38, facciamo forse lo 40, sono 2000, di trattenute, quindi, 38, va preso a, almeno, a 32, 33, per esempio, si può offrire, scade tra 15 minuti, noi offriamo, 32, 33, mettiamo, si prende a 33, 34, 35, 36, 37, 38, un 3000, anche qui, che si prende a 33, che non è tanto, è poco ragazzi, perché purtroppo, il guadagno, è questo, Ozil, un altro che io, lo seguo spesso, Ozil, è un 88, dell'Arsenal, quindi penso che sia comunque un giocatore richiesto, a 45, dai, 45 si vende, ce n'è un paio più bassi, ma sono solamente due, il resto sono tutti più alti, quindi un 45 si vende, quindi 45, sono sempre un sui 2000, 2000, 250, facciamo 2000, dai, si va sempre per, quindi, 45, deve preso a 38, 39, 40, più 5000 di guadagno, deve preso a 38, quindi qui siamo già oltre, qui a 40, si guadagnerebbe 3000, che poi sta a 43, quindi siamo già a 45, un pelino sopra il prezzo, diciamo, ottimo, io sempre voglio mettere il prezzo ottimo, per venderlo rapido, perché voglio il guadagno, che sia voglio, la moneta ragazzi deve girare, se non gira, se lo prendete a 40, per venderlo a 50, e vi sta lì, un paio di settimane, non vale nemmeno il guadagno, alla fine, perché non lo venderete mai, poi aspettate due o tre settimane, poi vi toccherà comunque, calare il prezzo, perché poi quando vedete che non lo vendete, calate il prezzo, e la moneta non gira, qui bisogna fare dei prezzi, anche guadagnare, anche 3000 giocatore, però, se io compro un giocatore ora, e ci guadagno 3000, ma lo vendo tra un'ora, tra 10 ore, e faccio così con tutti, gira il soldo, gira rapido, il guadagno è rapido, se io devo prendere un giocatore, guadagnarci l'ipotetico 10.000, e mi sta lì un mese, non lo vendo, e sta lì magari anche due o tre settimane, in due o tre settimane, a 3000, 4000, 5000 al giocatore, e se quanti non ho venduti, e quanti soldi ho tirato su, molto di più, di chi magari ci vuole guadagnare, sopra 10.000, e non lo guadagna, ok, più o meno, spero, va bene ragazzi, comunque, andiamo a vedere un attimo, il mercato, abbiamo già uno superato, già scaduto, no, Verratti, manca otto minuti, l'ha detto, Verratti, il prezzo era 38, un 2000 di leva, quindi va preso a, 33, 33, ok, fino a 33, noi offriamo, facciamo, 31,5, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ancora meglio, se si vendesse a 37, non dobbiamo ancora prima, va bene ragazzi, attendiamo un attimo la fine dell'asta, intanto ci salutiamo, anche se non credo di riuscire a prenderlo, perché sta già a 32.000 e manca 3 minuti, quindi io più di 33 non offro, perché poi c'è da pagare il Dazio del 5%, andando a 37, se va più di 33, non conviene nemmeno, è già a 33, quindi vedete ragazzi, che non conviene nemmeno, questo perché sono già, con 33 sono proprio al limite, l'Aschio, un 3000 di guadagno, a 33, e meno, non conviene nemmeno, quindi, va bene così, ma vedete ragazzi, le aste non sono semplici, ci vuole veramente tanto tempo, va bene ragazzi, comunque io vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio, vediamo la prossima, ciao!